ma siamo ancora qui nel podere pantaleone che stiamo girando e abbiamo visto questi cartelli molto belli e cerchiamo di realizzare un video in cui uniamo la poesia dei cartelli al carteggio allora come facciamo? possiamo fare che tu ti avvicini al cartello io mi avvicino al cartello quanto? ti accovaccio a fianco mi accovaccio e come faccio a leggerlo? io lo leggo e tu mi mi doppi ma io devo leggere per doppiarti facciamo il giochetto che tu che tu ti doppio a prescindere beh ma non funziona non funziona allora aspetta devi girare ti devi mettere qui un po' dietro di me che non ti vedi non mi vedo ti devi mettere qui guidami il telefono tipo così no? sì tu parli io parlo ma io sono inquadrata però tu non ti devi vedere che parli certo allora allora dobbiamo metterti così sì secondo te stai inquadrando? secondo me stai inquadrando sì ben dritto ben così allora sei pronto? 3 2 1 odore del bosco ma noi dobbiamo stare dritti? siamo dritti cioè nel senso così almeno vai vai ah dal titolo? certo ok per se tu un po' più così un po' più così vai odore del bosco difficile raccontare l'odore del bosco è legno umido muschio funghi qualcosa di smosso nel terreno un principio di frutta bacche foglie una scia lasciata da fate o principesse bene bene l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto andiamo a lasciare di altri cartelli a tutto punto la mamma si è piena di zanzare